di cuore a tutti ed è un onore proseguire la serata con un carissimo amico, un grande medico, un grande clinico, un grande professionista a cui sono grato, che è il dottor Bartolomeo Allegrini. Buonasera a tutti, grazie Giorgio per le belle parole, ma sono chiaramente stimolato da queste serate, perché vedo che sono più di 90 iscritti, quindi vuol dire che c'è curiosità. Stasera cercherò di approcciare in maniera semplice, sintetica, ad alcuni casi clinici che in questi cinque anni e mezzo, in cui io utilizzo ormai, sono passati cinque piano e mezzo in cui utilizzo S-Drive. Giorgio, se gentilmente mi fai condividere lo schermo. Puoi farlo, sei abilitato. Posso andare? Ok. Sì, sì, fai condividi. Benissimo, ecco qua. Condivido. Aspetta che devo accorciare, per stringere questo qua. No, ma basta che vai sotto a sinistra, sotto a destra, sotto a destra dove c'è questo, dove vedi questo che mi muovo, lo vedi no? Dove? Per lanciarlo, qui. Vedi qua, a destra, sotto, vicino almeno, vicino almeno, sai più e meno, vicino almeno, vicino almeno. Dall'altra parte? Sì. Ancora lì, schiaccia lì. Presentazione, ok. Ok, benissimo. Buon corso. Sì, allora, dicevo, è un'opportunità di mostrarvi alcuni casi clinici, alcuni di questi sono recentissimi, e anche con evoluzioni anche immediate, molto immediate, perché rispetto a quello che diceva prima Giorgio, io direi che S-Drive, oltre che permetterci tutto quello che diceva Giorgio, cioè di valutare, di non fare di anni, sì, 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 però ci dà una grande possibilità di poterci prendere cura del nostro prossimo. E questo è un valore aggiunto, perché S-Drive è un test che ci costringe a ragionare in una maniera complessa, sistemica, integrata, chiaramente personalizzata. Il primo caso clinico lo introduco con una lettura. Tutto parte da un obbligo assolto, sicuramente con troppa leggerezza. Ero in debito in quel periodo, dovevo lavorare per non finire completamente a terra, e così è andata. Ma il punto non è questo, e non voglio che queste parole diano inizio ad una polemica infinita, perché non è proprio questo il mio obiettivo. Vorrei lasciare qui la mia storia, vorrei che venisse condivisa, perché sicuramente lì fuori c'è moltissima altra gente che sta come me, e come me non viene capita, perché questa roba non ha nessun nome. Ti distrugge il sistema nervoso, distrugge le cellule, il corpo inizia a non funzionare, la testa non connette, si diventa deboli. Ma gli esami faticano a tirare fuori i risultati decisivi, e la fine che fai è semplicemente quella di essere preso quasi per pazzo, e non venir capito. Come se dovesse essere per forza semplice capire che cosa ho nel corpo, dare un nome e trovare una cura, invece non lo è per niente. Ma vieni preso per pazzo, e se non hai la fortuna di avere qualcuno accanto, che ti conosce davvero bene e ti segue tutti i giorni, vivendo con te la tua malattia, sopportando lo stesso peso, la verità, è che resti solo. Resti da solo in mezzo all'incredudità della gente, e se resti solo nei tuoi dolori, e prima avevi una vita piena e attiva, iniziano a girare nella testa solo pensieri orrendi, diretti verso un forte desiderio di volersi spegnere, e basta. Io ho la fortuna di avere un meraviglioso angelo custode, che non mi vuole soltanto bene. Ha anche una super testa, che non si è mai fermata, ha sempre studiato le basi solide per poter aiutare davvero. E lo sta facendo, cavolo, e se oggi sono in piedi, in qualche modo vivo, e non sono arrivata ancora a pensare davvero nero, lo devo solo a lei. Prima di tutto questo, vivevo a duemila all'ora, un sacco di lavoro, un sacco di sport, amici, uscire, divertimento, un sacco di obiettivi nella testa, lì pronti per essere raggiunti. Poi, un anno e nove mesi fa, questa è una lettera di più o meno sette, otto mesi fa, arriva la febbre, alta, altissima, trentanove e mezzo, e io che prendo la febbre? Non esiste. Eppure arriva. Poi mal di testa, debolezza, mancanza di appetito, un'incredibile stanchezza. Tanto da dovermi fermare, spesso in autostrada, riposare durante i viaggi di lavoro. Normale, dice il medico, normale per i giovani sportivi. Passerà lo stress, penso io, il lavoro, e passano i mesi, ma non mi riprendo, nove mesi, finisco in ospedale, dopo nove mesi. La mononcleosi, che quasi tutti abbiamo fatto in maniera banale da bambini, decide in quel periodo anche di riattivarsi nel mio corpo. È di nuovo febbre alta, dolore insopportabile alla testa, nelle orecchie, in gore. Finisco a letto, non mi alzo, non sono più cosciente, mi risveglio in ospedale, ci passo una bella settimana sotto flebo, porbandata di antidolorifici, antifiammatori. Poi è solo mononcleosi, e mi rimandano a casa. Passano altri due mesi, e siamo esattamente nel 2022, al termine del 2022. Non sviluppo immunità, riprendo a lavorare, sto un po' meglio, ma in realtà non stavo per nulla bene, ma arriva dicembre del 2022, il mio intestino collassa, letteralmente collassa, arriva una dissenteria senza preavviso, acida, che ti brucia tutto il tratto intestinale, odorava di morte, e a ruote inizia un casino, perdo peso vertiginosamente, partono i dolori lancinanti, tutto il corpo, la testa non è più in grado di connettere, non termoregolo più, mi spengo in maniera improvvisa, vado in catalessi, non ricordo cosa succede, la memoria gioca brutti scherzi, non riesco a mangiare nulla, l'acqua ha il sapore di acido, bere e brucia, il cuore inizia a impazzire, i batti passano da 50, 60, a 175 a riposo, in due secondi, credo di dormire, ma in realtà passo la notte a rigirarmi dai dolori, mi sveglio devastata, fatico a stare in piedi, ma mi alzo e vado a lavorare, perché non ci si può fermare, ma più la gente chiede che cos'hai, meno credo a quel che dici, o meglio non capisce, veda il cardiologo, veda il gastroenterologo, fatti ricoverare, sarà un momento, poi passerà, no, i medici leggono la mia cartella clinica e alzano le mani, viene passato da una mano all'altro, come una pallina, tutti dicono, un sacco di cose, ma nessuno alla fine dà una spiegazione a tutto questo, meglio ancora, sa dove girarsi e cosa fare, ma il mio angelo custode, fortunatamente, conosce medici, davvero in gambe, si affida a qualcuno che ne sa davvero un sacco, mi trovo intossicata da metalli pesanti con virus parassiti e questo è S-Drive. Questo S-Drive è di questa E.B., una giovane donna di 37 anni, avete sentito questa sua lettera? Questa sua lettera racconta animosamente, poi c'è sicuramente una seconda parte, di come lei si sentisse enucleata dal sistema sanitario, si sentisse isolata, sola, no? Grazie a questa compagna che l'ha sostenuta e grazie, diciamo, a S-Drive. Questa è la pagina 3 del suo S-Drive, fatto esattamente il 7 dicembre in Lombardia, in un centro S-Drive, mentre io ero in Puglia, e questa è la bellezza di questo test, e il giorno successivo, l'8 dicembre, io ho letto questo test, ero in clinica di turno, l'8 dicembre del 2022, ho letto questo test a questa meravigliosa creatura, che non si è resa, fortunatamente, la sua spinta da triatleta ha chiaramente prevalso, anche nel processo notevole di cura, cura e anche di ottenimento di grandi risultati. Vedete? Riepilogo al primo posto intestinale, poi sistema ormonale, poi sistema adrenergico ed emozioni. Una serie di cibi che, chiaramente, devono essere, sapete, limitati durante questa fase di cura, quando si approccia, ma vediamo che cosa segnala. Fra gli aspetti chiave, al primo posto ci sono le resistenze microbiologiche. Il test segnalava ancora la persistenza di virus e la presenza di parassiti. Quindi eravamo di fronte a uno stato infiammatorio cronico, poi vedremo, della barriera intestinale, che praticamente creava, come vedete nella seconda traccia, quella in violaceo, un forte stress ossidativo di cui ha parlato prima Giorgio. E poi, nella terza linea, vedete, i fattori epigenetici, perché è importantissimo venire a conoscere questi. Che poi sia stato il vaccino o sia stata già una condizione preesistente o sia stato il virus della mononcleosi che ha riattivato, i metalli tossici trovano facilmente terreno in un sistema ipossico, dove il metallo metallo tossico è comunque un indicatore di sofferenza cellulare, di danno epigenetico importante, soprattutto a carico del mitocondrio, che giustifica anche la grande, la notevole astenia marcata fino alla catalessia che caratterizzava questa giovane donna. accanto al gradino successivo sono le interferenze elettromagnetiche e poi vediamo più sotto che ci sono anche diciamo carenze vitaminiche e poi degli alimenti da perseguire. Il valore questa è pagina 5, a pagina 5 noi andiamo a vedere l'attività del sistema immunitario, come vedete nell'attività del sistema immunitario c'era un valore totale di 108, quindi diciamo rispetto agli esami che questa giovane donna aveva eseguito. Gli esami che aveva eseguito gli avevano detto che fondamentalmente non sapevano che dirgli. Quindi capite quanta gente oggi si trova di fronte a una condizione di sofferenza limitata a una non valorizzazione nosologica non c'è spesso un nome si usa sempre spesso la diciamo sindrome che racchiude una serie di sintomi oppure l'addizione idiopatica ma in verità noi qui attraverso S-Drive abbiamo già due grandi sistemi a sinistra io li metto insieme in questa pagina perché vedete a sinistra c'è una lettura diciamo biofisica del sistema immunitario di questa ragazza a destra c'è una lettura del sistema intestinale e quindi se vedete c'erano forti indicazioni su carenze di certi tipi di vitamine su carenze di marcatori antossidanti su carenze di neurotrasmettitori come la serotonina di alterazioni di sistema di supporto come l'intestino ma poi vedete un valore di 22 nella pagina del sistema immunitario collegato a metalli tossici e a diciamo sensibilità elettromagnetica e in più un valore di 20 quindi valori importanti importanti per un test del genere che indicavano l'attivazione di parassiti e virus che poi ritroviamo anche insieme ai metalli insieme a elettrosensibilità nella pagina 7 dove nella valutazione intestinale vedete gli stress ambientali avevano un indirizzo verso tutti questi cofattori che spiegavano un tipo di reazione infiammatoria estesa perché fondamentalmente quando noi noi ci troviamo di fronte a una valorizzazione di questi dati dobbiamo poi andare a fare i conti anche con la modulazione del sistema immunitario e la modulazione del sistema immunitario avviene fondamentalmente attraverso due branche che sono definite le branche TH1 e TH2 perché accanto alla TH17 ci permette di modulare l'attività di una serie di germi che inseriti in circuiti di cronicità con una sorta di infiammazione silente e quindi un'infiammazione di low grade di basso grado chiaramente comporta un'iperattivazione che diventa in qualche maniera consumistica cioè il sistema infiammato cronicamente perde energia se noi non andiamo a intercettare questi fattori quindi se noi non intercettiamo fattori tossici come le tossine metaboliche dei metalli tossici che attraverso una via epatica in primis ma anche poi il sistema nervoso è chiaramente inteso come sia di sistema nervoso centrale che sistema nervoso periferico ma anche il neurovegetativo attraverso dove i metalli tossici hanno una notevole filia soprattutto in questa ragazza che da un punto di vista anche di tipologia era un soggetto molto sottile molto magro quindi con poca rappresentazione di tessuto adiposo che solitamente è un tessuto che può tra virgolette metabolizzare i metalli tossici e con scarsezza avete visto la storia che raccontava anche di tessuto muscolare perché andava intanto in sarcopenia perché questo stato infiammatorio esteso creava chiaramente anche un atteggiamento sarcopenico parliamo di una triatleta parliamo di una dog sitter parliamo di una donna che faceva un lavoro in cui viaggiava molto quindi come ha raccontato ha avuto grosse difficoltà e quando noi andiamo a vedere anche diciamo il triptofano come indicatore di marcatore nutrizionale nell'ambito di quello che è diciamo il marcatore nutrizionale collegato alla barriera intestinale chiaramente siamo di fronte a una disregolazione di tipo nervoso vegetativo perché il triptofano che è il mediatore della serotonina a livello dell'apparato digerente gioca un ruolo molto importante nella regolazione neurovegetativa simpatico parasimpatica che chiaramente in questo in questa tipologia di persona era completamente saltata la vitamina D3 ma soprattutto i teori e poi anche il sulforafano e il molibdeno indicavano uno stato di tossicità epatica soprattutto nelle fasi di detossificazione specifiche non solo dei residui batterici microbiologici parassitari che chiaramente transitavano dalla barriera intestinale al fegato ma avevano anche una valenza come indicatori di una povertà metabolica del fegato nel catabolizzare le metallocossine che normalmente hanno bisogno di grandi quantità di zolfo e grandi quantità di mediatori anche tiolici come l'acido alfa lipoico per poter essere diciamo eliminate e quindi vanno poi in accumulo e in relazione alla filia particolare l'accumulo può avvenire in diversi tessuti quelli con maggiore pregnanza sono soprattutto il tessuto nervoso il tessuto adiposo e il tessuto connettivale quindi già da queste prime due pagine no abbiamo una rete di informazioni quindi il vantaggio di S-Drive effettivamente è un vantaggio notevole perché rispetto a quello che ci diceva nella sua descrizione Emanuela chiaramente eravamo di fronte a una situazione disperata dove non c'era nessun tipo di dato da ricercare io poi sono andato anche a ricercare la riattivazione virale che chiaramente c'era soprattutto quella da Epstein-Barr ma bisognava poi cooperare con questo sistema e cooperare con questo sistema significava andare a rispettare le carenze vitaminiche andare a rispettare le carenze di antiossidanti andare a rispettare la presenza vedete di questi metalli tossici nonché di questa grande alterazione a livello di indicatori microbiologici di resistenza e chiaramente il mio supporto ma questa è una cosa che potete fare tutti è stato quello di andare a lavorare su le due fasi da un lato sono andato a lavorare su una disattivazione di fattori infiammatori quindi sono andato a lavorare sul discorso delle virosi sono andato a lavorare sul discorso dei parassiti sono andato a lavorare sui metalli tossici quindi in una sorta di bilancia di salute sono andato a limitare l'attività di questa infiammazione silente dall'altro ho dovuto gestire un riempimento delle cellule ho dovuto andare a gestire un riempimento che non è stato chiaramente solo orientato con una semplice introduzione di fattori di cui dal test risultava la carenza questo sicuramente è una cosa che dobbiamo fare perché dobbiamo andare anche a inseguire quelle che sono le indicazioni del test quelle che vengono indicate come priorità e come carenze e quindi chiaramente bisogna andare a gestire questo aspetto ma bisogna anche andare a valorizzare dei dati inerenti l'organizzazione sistemica e fondamentalmente io in questa ragazza in questa giovane donna quello che sono andato a valorizzare in relazione anche a questi dati è proprio una astenia di tipo neurovegetativo dove non c'era né da un lato una capacità di produrre adeguate quantità di energia per il sostentamento né dall'altro c'era una capacità anabolica che era stata completamente interrotta e quindi ho lavorato con questi assi e nella regolazione di uno stato infiammatorio cronico il più grande lavoro che dobbiamo sempre fare quando ci sono dei sintomi che sono duraturi e che sono anche resistenti a delle comuni terapie perché non è che questa signora si è stata a guardare nel frattempo quando stava male comunque prendeva integratori ma non aveva avuto una organizzazione funzionale come diceva prima Giorgio nella integrazione e quindi ho organizzato una ricetta funzionale in cui ho lavorato con la triade ho lavorato con dei regolatori dell'asse simpatico e parasimpatico ho lavorato con delle sostanze che vanno a chelare i metalli delle sostanze che vanno a riordinare l'indice infiammatorio TH1 TH2 e grazie a questo Emanuela nel giro di poco tempo ha iniziato a stare bene ma nel frattempo chiaramente no man mano che andavamo avanti abbiamo proceduto via via ma perché chiaramente stare bene non significava guarire siamo passati no in una fase in cui purtroppo quando noi andiamo ad incontrare una sorta di esaurimento no lei parlava proprio di un'immagine ben precisa dottore è come se mi hanno messo una mentos diceva in una bottiglia d'acqua mi hanno creato con quel vaccino lo possiamo dire un subbuglio mi sono avvelenata io mi sento avvelenata quindi chiaramente da medico esperto di terapie integrate sono andato a procedere anche attraverso delle fleboclisi attraverso delle flebo io ho portato questo caso come primo un caso estremo per farvi comprendere come l'indirizzo di S-Drive è fondamentale perché oltre quelli che sono gli obiettivi di cui parlava prima Giorgio no che sicuramente sono diciamo riconoscibili dal test e quindi il supporto a uno stato adeguato di salute il benessere noi possiamo attraverso questo test attraverso la bussola orientante di questo test strumentare delle terapie che chiaramente devono essere poi correlate alla clinica del paziente o della paziente in questo caso e quindi io sono andato poi a fare delle terapie semplici con vitamina C endovena con TAD per il fegato flutatione con acetici seina la NAC nel giro di qualche mese Emanuela è tornata a rivivere dopo un anno dal test è ritornata sui campi dove educa i suoi bellissimi animali è ritornata a vivere io l'ho rivista il primo marzo perché è venuta a trovarmi della Lombardia io ho uno studio in provincia di Milano ad Arese da tanti anni è venuta a trovarmi e mi ha fatto un bellissimo regalo mi ha fatto un bellissimo dono oltre che averla vista bene ha fatto un bellissimo pensiero che dimostra come effettivamente non dobbiamo in questo momento difficile dove le malattie sono diventate complicate complicatissime dove io oggi vedo io lavoro in questo campo da più di 25 anni io oggi vedo dei casi che prima non vedevo oggi c'è molta più confusione si è creata una maggiore distorsione si è creata proprio una sorta di caos lesivo di varie funzioni abbiamo sempre più patologie strane abbiamo sempre più pazienti che sviluppano malattie strane sintomi strani stiamo proprio sballando epigeneticamente perché sicuramente saranno stati gli anni del covid saranno stati quello che vogliamo la non curanza di quel periodo di certi aspetti ma tanto altro diciamo che oggi siamo di fronte a una vera emergenza e come dice Giorgio la vita urgente abbiamo la necessità chiaramente di andare a procedere con qualcosa questo test è un test semplice arriva in 12 minuti in 13 per la precisione e permette di guardare dentro di utilizzare delle informazioni che da dentro vanno verso fuori di una medicina che parte dalle piccole cose per andare verso le grandi cose che parte dalla cellula e va verso i tessuti e verso gli organi e chiaramente è una medicina quella che ci dispone a fare la valorizzazione dei dati di questo test è una medicina integrata dove una rete di informazioni che non escludono lo stato psicologico assolutamente ma lo integrano in un modello sistemico che noi chiamiamo PNEI che comunque va a valorizzare sempre la struttura nella sua globalità e quindi attraverso questo test riusciamo a integrare a nutrire a riportare in simmetria i sistemi in equilibrio in armonia e fare un lavoro straordinario è uno strumento unico soprattutto di semplice utilizzo ma soprattutto non esclude poi l'utilizzo di altri sistemi per cui un medico un operatore sanitario poi può fare tutto quello che vuole dalla risonanza magnetica a degli esami di laboratorio specifici a tutto quello che poi può interessare il campo di salute della persona ma questo test è utilissimo perché dà un orientamento è un momento quantico è un momento di resilienza non dobbiamo aspettarci tante informazioni ma le giuste informazioni di giusti segnali che attraverso appunto un'attenta anamnesi conducono poi l'operatore sanitario verso una o più soluzioni possibili e questo è un grande aiuto che possiamo dare al nostro fratello al nostro prossimo ed è sicuramente uno dei tanti stimoli che mi porta a fare in continuazione questi test stamattina ho fatto tre visite e ho eseguito due test del bulbo questo è un caso clinico recente esattamente è venuta da me in data 23 novembre è una signora di 74 anni che si presenta con sintomi di prurito con grave dermatite da ormai quasi un anno chiaramente è una persona che ha subito anch'essa le vaccinazioni praticamente ha già effettuato diverse visite di tipo dermatologico e anche allergologico ma non è risultato niente è una paziente con cardiopatia ipertensiva ben compensata non ha grosse problematiche abbastanza autonoma ma vive il dramma di questa dermatite molto estesa che colpisce alcune zone del corpo è una dermatite eczematosa ma anche eritematosa e quindi ha questa doppia caratteristica e chiaramente viene accompagnata dalla nuora nel mio studio dopo che ha saputo della mia presenza in questo studio grazie a una sua vicina di casa che aveva risolto un problema di salute e io gli eseguo il test del bulbo dal test del bulbo viene fuori nel riepilogo vedete una serie di sistemi emozioni sistema adrenergico sistema muscolo scheletrico sintesi proteica poi andando a vedere nell'ambito della panoramica degli aspetti chiave nella panoramica degli aspetti chiave abbiamo vedete una serie di aminoacidi fra cui la lisina ma anche la taurina la valina e il la metionina quindi ci dà già il test alcune informazioni però andando più giù mi accorgo che vedete i minerali c'è il litio e la signora non stava vivendo bene questa fase della sua vita pensava di avere un male incurabile parliamo di un prurito che dura un anno e chiaramente le persone poi si vanno a informare se fanno la terapia cortisonica se fanno la terapia dermatologica e il prurito non regredisce chiaramente la gente inizia ad avere paura c'è il rame vedo il rame vedo il litio vedo il manganese vedo soprattutto poi tra gli antiossidanti il sulforafano l'acido alfa lipoico le antocianidine e inizio poi a valorizzare un altro dato dico cavolo trovo metalli tossici come vedete la linea rossa sfide ambientali parliamo di una signora anziana ma è importante l'anamnesi ma è importante anche l'ambiente la logistica la signora vive esattamente a 5 km dalla base di Aviano la base di Aviano in provincia di Portenone c'è anche un centro oncologico famoso il Cro di Aviano ma c'è soprattutto una base americana della Nato ok quindi da questi dati poi io mi inizio a muovere per chiaramente consolidare il successivo percorso e vado a valorizzare i dati del sistema immunitario come vedete anche qui voglio dire abbiamo un'evidenziazione di alcune carenze vitaminiche soprattutto sono evidenziate la vitamina D3 e la vitamina C quindi chiaramente capite la signora assumeva vitamina D e questo è un dato molto importante perché io posso anche assumere vitamina D il test vi dà una relazione con quello che in quel momento il corpo ha più bisogno ha bisogno di vitamina D e di vitamina C no ha bisogno di altri vedete oligolementi il ferro che è uno dei minerali che chela i metalli pesanti il manganese che è uno dei minerali che chela i metalli pesanti è il rame il rame è un minerale importante è un minerale importante poi vedremo perché perché questa signora manifesta comunque una dermatite di tipo pruriginoso la lisina no la lisina indica spesso una sorta di sofferenza del tessuto collettivo del mesenchima e quindi peraltro in ambito di fattori no che condizionano lo stato di reattività del tessuto collettivo non dovete dimenticare i fattori istaminici l'istamina è un grosso è un grosso mediatore della comunicazione del tessuto collettivo quindi io attraverso queste informazioni di questi indicatori di supporto del sistema immunitario personale vado a cercare di capire come poter aiutare questa persona attraverso chiaramente la persistenza di un dato se siamo di fronte a una componente epigenetica perché la signora nell'anamnesi non risultava nessuna malattia dermatologica nella sua famiglia non aveva mai avuto problematiche dermatologiche ma questa problematica molto estesa era in qualche maniera confacente anche a vedete una presenza di metalli tossici a livello della barriera intestinale quando io ho a che fare con zolfo acido lipoico manganese rame rame perché il rame è un forte cofattore della formazione del dao il dao è un enzima si chiama istaminasi che è un enzima che viene prodotto dal dodeno viene prodotto dal dodeno sotto adeguato stimolo soprattutto del raggiungimento del chilo del chimo chiaramente gastrico che diventa nell'intestino chilo intestinale e chiaramente io durante il post covid e quindi anche con vaccini o pazienti che hanno avuto covid ho visto un sacco di pazienti che hanno carenze di dao quando vedo questo cofattore poi collegato anche ad alcuni fattori che mi ricordano l'attività del fegato no allora il meccanismo può essere quello chiaramente di incapacità a gestire a gestire l'istamina peraltro in presenza di metalli tossici chiaramente il ragionamento deve virare verso una metallotossicità di tipo istaminergico che è proprio caratteristica di un metallo che si chiama nickel quindi io testo kinesiologicamente il nickel a questa signora quindi vedete testa il bulbo vi dà delle indicazioni poi voi sapete testare con le av sapete testare col vega sapete testare con la kinesiologia con il ruolo e martina con quello che volete alla fine andate a capire che e io vedo che questa signora risponde al nickel il nickel è fra i metalli tossici il più potente istaminergico tendenzialmente il nickel è un minerale è un metallo tossico che è presente in molti cibi che è molto caratteristico di molte situazioni in questo caso chiaramente tutta questa rete di informazioni mi permette di orientarmi verso una nickel sensibilità e inizio a chiedere signora ma lei che cosa mangia e dall'elenco dei cibi che mi fa la signora il 70-80% dei cibi che mangia è praticamente un cibo ricco di nickel potenzialmente poi chiaramente questo dipende molto dai territori anche capite bene che se io vivo in un territorio dove c'è un'alta densità di pioggia acida o di pioggia abbastanza diciamo avvelenata chiaramente questo mi può comportare poi una sofferenza per quanto riguarda l'introduzione del nickel che in certi cibi può arrivare anche a concentrazioni nettamente superiori anche di 10-15 volte rispetto a quella che è la media e quindi chiaramente questo mi ha portato a impostare anche un discorso di nutrizione per questa signora direttamente collegata a una nickel sensibility che la signora è stata brava ad eseguire però chiaramente non bastava solamente quello e sono andato a valorizzare anche altri dati vedete in ambito circolatorio la metionina abbiamo visto prima il sulforafano abbiamo visto prima l'acido lipoico quindi una serie di indicatori di un'attività epatica che non era proprio massimale e quindi anche lì un aiuto con indicazione del test su meccanismi di detossificazione specifica perché chiaramente voi dovete pensare che bisogna fare un lavoro specifico quando ci troviamo di fronte a delle tossine difficilmente eliminabili allo stesso tempo bisogna fare un'alimentazione che ne deve essere anche priva di queste tossine ma dobbiamo anche andare a sostenere degli organi dobbiamo anche andare a sostenere dei sistemi che altrimenti potrebbero andare in difficoltà se io inizio a smuovere attraverso i vari emuntori le tossine metabolizzabili parzialmente come i metalli tossici è chiaro che è stato importante anche il lavoro che ho fatto col DAO cioè ho dato alla paziente la possibilità anche di introdurre cibi istaminici a bassa intensità per alimentarla perché la signora comunque non doveva denutrirsi attraverso l'utilizzo del DAO e quindi sono andata a integrare l'attività di un'enzima che era diventato carente perché da un lato lo stato infiammatorio cronico anche della mucosa intestinale collegata ai metalli tossici portava una incapacità produttiva di questa enzima dall'altro e anche il fegato che era un po' intassato portava a questo dall'altro chiaramente dovete pensare che attraverso lo stimolo del DAO dell'istaminasi chiaramente l'istamina viene più velocemente degradata soprattutto quella che viene apportata attraverso gli alimenti la signora vedete questo è il quadro vitaminico che va interpretato buono ma abbiamo visto come indicazione a pagina vedete a pagina 5 vitamina C e vitamina D3 scusatemi con un valore di 21 allo stesso tempo abbiamo sulla destra una serie di minerali che ci indicano anche questi delle attività abbiamo visto come il manganese e il ferro sono tra i minerali catalitici minerali chelanti il litio che è un minerale che ha un'azione sedativa modulante il sistema nervoso è anche indice quando è presente di sofferenza di integrazione dei sistemi nervosi soprattutto di collocazione di un adeguato bilanciamento fra destra e sinistra e chiaramente uno stato infiammatorio cronico questo è una conseguenza della disattivazione degli assi di regolazione che sono fra il cervello e la barriera intestinale e il rame di cui abbiamo preso prima diciamo il significato soprattutto in ambito di gestione delle valenze istaminergiche anche gli andiossidanti ci davano un orientamento di un potente stress ossidativo soprattutto con interessamento anche del microcircolo e quindi chiaramente con un interessamento anche dell'aspetto reologico del sangue con un'aumentata viscosità che può essere anche orientata da indicatori come le antocianidine e allo stesso tempo dalla vitamina c stessa che è un fattore importante di endotelio protezione e questo contribuisce chiaramente allo stato infiammatorio cronico così come il sulforafano e l'acido alfalipoico sono anche due indicatori importanti dell'attività epatica soprattutto collegato alla linea dello zolfo che anche questa va orientata e preservata beh considerate che normalmente in omeopatia per esempio la linea sulfurica prevede proprio una modalità reattiva che si chiama psora domenica tratteremo proprio nella scuola di alta formazione un argomento collegato alla semiotica funzionale costituzionale diatesica con inquadramento di tipo non solo costituzionale strutturale morfologico e diatesico patologico ma anche psicomorfologico e quindi capite bene come noi orientandoci anche sulla persona possiamo valorizzare una rete di dati che in questo caso sono serviti ad annullare delle focalità che altrimenti attraverso i normali esami di laboratorio non si riusciva per niente a valorizzare ecco l'utilità di questo test quindi questa signora anziana io quindi l'ho inquadrata come un soggetto con nickel sensibility parliamo già di una persona che prende farmaci e quindi già i farmaci se conosciamo la farmacocinetica la farmacodinamica dobbiamo capire il grado di tossicità considerate che i farmaci sono tossine parzialmente metabolizzabili le tossine si dividono in tre tipi quelle fisiologiche che sono le tossine cristalloidi e quelle colloidi poi le tossine metabolizzabili no parzialmente o per niente quindi per niente metabolizzabili e fra le tossine per niente metabolizzabili considerate che ci sono molti molti farmaci ok quindi chiaramente quando avete persone che prendono farmaci e beh dovete dare sempre una priorità alla gestione delle motori soprattutto poi se viene fuori un problema di pelle ma ce lo dice qua la componente antiossidante perché fondamentalmente la componente antiossidante va a indicare anche un'attività del fegato antiossidante di quella che è la fisiochimica del fegato che prevede due fasi ben precise la fase 1 e la fase 2 di detossificazione dove nella fase 1 dove avvengono alcuni fenomeni di tipo biochimico avviene poi anche la produzione di ROS che sono specie reattive dell'ossigeno e di radicali liberi per cui è importante un coordinamento fra fase 1 e fase 2 perché se questo non avviene questa fase di disintossicazione diventa di per sé tossica ecco perché è importante non solo valorizzare il dato antiossidante generico ma anche chiaramente con una valenza sulla cellula sul mitocondro ma anche a valorizzare questo dato in relazione al tipo di patologia presente in ambito organotropico cioè andare a capire se questo dato può orientarci verso un organo piuttosto verso che l'altro sofferente la stessa taurina che è presente come amminoacido indica una delle fasi di diciamo detossificazione epatica allo stesso tempo vedete la lisina abbiamo detto prima connettivo la metionina sempre ricordatevi la metionina metilazione quindi un processo importante dove la valenza anche di questo processo sull'attività epatica è fondamentale beh considerate che in molte disintossicazioni del fegato gli antichi clinici anch'io l'ho fatto e usavano il samir il famoso samir oggi abbiamo con Giorgio abbiamo fatto due belle serate di nutraceutica abbiamo tutta la linea self food sappiamo self food self food same e quindi possiamo lavorare con questo e poi vedete l'impatto del danno ambientale questa epigenetica capite cioè questa signora non era mai stata vista da un punto di vista tossicologico e ha ragione Giorgio quando dice ma che facciamo noi per inquinamento niente ma capisco che possiamo fare niente a livello ambientale io sono stato un medico che si è occupato di ambiente e ho combattuto per l'ambiente ma vi dico possiamo fare qualcosa come medici possiamo fare qualcosa come operatori sanitari possiamo avere dal fattore tossico metabolico una sorta di chiave di lettura di chiave di ingresso in una rete di meccanismi i metalli tossici ne hanno tantissimi meccanismi potremmo stare un'intera serata a parlare di metallismo ma vi dico che in questo caso anche rispetto ai dati che vi ho dato all'istaminergia quando c'è una forte istaminergia sospettate sempre per i metalli il nickel d'altronde se c'è qualche signora di quelle che soffre con l'orecchino o con piccoli strumentini di nickel sensibili e beh sapete che avete una reazione istaminica c'è una liberazione istaminica dal nickel quindi si attiva il TH2 non per tutti i metalli fa questo e peraltro si attiva una una situazione anche di edemizzazione che porta un cortocircuito il mesenchima perché va a cambiare il gradiente fra cellula e connettivo ecco perché lisina perché se c'è un eccesso di istaminergia per stimolo cronico chiaramente sulla barriere intestinale che sappiamo essere anche biologicamente collegata alla pelle è chiaro che avete anche una sofferenza del tessuto subepiteliale del derma e di tutto il resto quindi con grave diciamo incapacità dell'organismo a riparare è chiaro che è importante andare a togliere il fattore epigenetico in questo caso cioè se io potevo dare tutte le crime che volevo tutti i rimedi omiopatici piramidi fitocomplesti ma no non mi è servito è bastato andare a dare alla signora io l'ho vista già tre volte e ora vi farò vedere il test che abbiamo rifatto no la signora sta molto meglio la dermatite è scomparsa quasi completamente e vi garantisco che era una dermatite devastante parliamo di una signora anziana va bene quindi è fondamentale scoprire e vedete in questo caso il test epigenetico ha permesso a un operatore sanitario di andare direttamente sul problema e questo ha favorito una cosa importantissima che oggi non è da trascurare il fatto che io l'ho curata credetemi sui miei figli solamente con tre rimedi e questo è molto importante sia per la compliance di una paziente già in politerapia e soprattutto è una paziente che ha avuto anche una facilità di introduzione delle cure soprattutto perché alla fine quando individuiamo dei fattori possiamo agire direttamente su quei fattori non serve dare tre mila cose allo stesso tempo è importante accompagnare questo tipo di paziente con un'adeguata nutrizione andiamo a vedere il bulbo fatto dopo tre mesi io lavoro in questo territorio ogni tre mesi vado rifaccio il bulbo richiamo la persona e praticamente vedete è scomparsa la linea rossa dei metalli tossici in ambito di gerarchie stiamo parlando di una persona anziana ora mi viene al primo posto sintesi proteica poi produzione di energia poi metabolismo degli acidi grassi le emozioni vedete si sono spostate al quarto posto rimane il manganese è scomparso il rame ricompare il selenio compare il selenio il magnesio e il molibdeno ci sono anche degli antiossidanti persiste il sulforafano ma compare il selenio e la superossido di smutasi ci sono dei nuovi aminoacidi dei nuovi antiossidanti però come vedete è scomparsa dalla pagina l'addizione metalli tossici e questo è molto interessante come cosa ed è comparsa vedete la presenza di muffe espore nonché di una sensibilità vedete al glutine e questo è molto importante perché quando noi facciamo un bulbo e stiamo parlando di una persona di oltre 70 anni e non è che possiamo aspettare dopo il primo bulbo che il terreno si purisca completamente e no scusatemi allora voi pensate che là ci sono metalli ma perché ci sono metalli ma perché il virus il test del bulbo intercetta il metallo perché intercetta il metallo perché il metallo il test del bulbo che dà delle priorità ti dice guardate che fra le cose su cui dovete agire ci sono anche dei metalli tossici quindi biofisica e quantistica quindi quando poi dopo lo rifate dopo tre mesi non è che vi deve aspettare una pulizia completa anche se il paziente come in questo caso è nettamente migliorato in verità l'abbiamo rifatto dopo tre mesi e mezzo ma quello che vi deve aspettare è una vicariazione è una vicariazione progressiva cioè si fa si va da una fase di malattia cronica con danno cellulare importante a una fase di assenza di sintomi ma con ancora un sistema cellulare come vedete le antiossidanti il selenio la superossido no che sono entrati in azione per poter aiutare il corpo a guarire quindi il test ci permette di fare una sorta di stadiazione ci permette di fare una sorta di valorizzazione di una rete di dati e questo chiaramente comporta un arricchimento da parte nostra di informazioni per poter intervenire poi in un secondo livello e qui sono intervenuto chiaramente diversamente ho tolto ciò che ho utilizzato come chelante ho iniziato a lavorare sulla parte di riattivazione del mitocondrio di riproduzione di energia cellulare me lo dice il test di protezione antiossidante ho continuato sull'attività ipatica ho ridotto l'attività del DAO ho iniziato a lavorare su una reintegrazione alimentare che già avevo iniziato a fare dopo il primo mese che si chiama tempo immunologico perché i linfociti hanno 28 giorni di vita e quindi io chiaramente faccio delle diete di eliminazione per 28 o 30 giorni in maniera tale che silenzio i linfociti che si attivano per colpa di quel tipo di tossina specifica e quindi vi dicevo grazie a questa rete di informazioni siamo riusciti a cooperare e la signora che sta già in ottime condizioni ed è migliorata beh considerate che se togliete un prurito incoercibile che è una notte sì una notte no non ti fa dormire beh le persone solitamente con le cure naturali queste cose le chiamano miracoli non è un miracolo è semplicemente un ridurre lo stato infiammatorio cronico che si era generato andando a danneggiare chiaramente dei sistemi complessi ma noi attraverso S-Drive se riusciamo a trovare il fattore epigenetico che va a intervenire a interferire su quel tipo di reattività ci troviamo spesso di fronte a una reazione di tipo diciamo regressiva con consolidamento poi di altri dati che vengono fuori quindi la paziente deve essere osservata vedete ci sono delle carenze vitaminiche delle carenze mineraliche io dico sempre e metto a sostegno del paziente un trait nutrizionale grazie all'accompagnamento di figure dietistiche o nutrizionistiche che sono delle mie collaboratrici che vanno a integrare questa rete di informazioni che dà anche il bulbo andando chiaramente anche nelle pagine del bulbo vedi pagina 29 pagina 30 dove voi trovate un sacco di indicazioni nutrizionali ma questa signora io gli ho alleggerito la terapia ora prende poco fa pochissimo prende qualcosa per il mitocondrio prende qualcosa per il fegato stiamo facendo un lavoro di recupero di cibi la signora sta bene vedete però chiaramente bisogna nutrirla considerate che io se vado a fare una dieta per nickel sensitivity ebbè dovete pensare che il 90% degli alimenti che contengono nickel sono ortaggi frutta e verdura io sono di un paese monopoli dove c'è una grande azienda che si chiama azienda la pietra che produce pomodori senza nickel per farvi capire la sensibilità che è il mio territorio per questa sindrome perché io vivo in un territorio dove tantissima gente siccome qua chiaramente viviamo di ortaggistica visto il territorio che è molto pianeggiante chiaramente dovete considerare che è importante anche analizzare il territorio dove uno vive e quindi cercare anche di orientare il tipo di alimentazione ma quando tu rifai un test a tre mesi in una persona anziana e trovi questa situazione è un bel segnale perché fondamentalmente la persona ti viene a dire no dottore io sto bene no non è così perché attraverso il test voi potete avere la valorizzazione di una serie di dati che sono interessanti per garantire una restituzione ad integrum un miglioramento della qualità biologica di questa paziente che significa anche portarla rispetto allo stravaso energetico che aveva vissuto e quindi in quel momento in cui il corpo si è trovato di fronte a un allarme vedi per esempio covid vedi vaccini ha consumato energia consumando energia il sistema è andato in vicariazione in questa vicariazione si sono inseriti i metalli i metalli non sono altro che dei diciamo simulatori di malattia intervengono in continuazione nel nostro organismo ma se il nostro organismo è compensato il metallo lo elimina lo fa attraverso le vie aeree con respiro lo fa attraverso le vie intestinali con le feci lo fa attraverso le vie urinarie con le urini lo fa attraverso la pelle attraverso la traspirazione il fatto che si crei si crei un intasamento è perché non viene garantita quella normale compensazione di energia e la malattia nasce spesso in uno squilibrio energetico che è spesso sollecitata da fattori epigenetici nel caso precedente della ragazza vedete era stata sollecitata da un vaccino e poi successivamente da un virus quello che si era riattivato quello della monocleose in questo caso parliamo di una signora che già ha degli stressori che parliamo di sostanze chimiche che certamente il corpo può compensare ma quando poi compare qualcosa che va a impoverire il sistema altri cofattori approfittando di quell'indebolimento possono intervenire e il sistema che intanto è stato stimolato a livello immunitario in maniera paradossale e anomala chiaramente ha un disorientamento e in questo disorientamento si inseriscono benissimo i metalli che sono espressione di un'energia che è quella del dis il dis è una energia di forme rispetto alla normalità in ambito omeopatico il metallismo fa parte di una linea che è la linea luetica che caratterizza una costituzione fondamentale dell'omeopatia che oggi è molto evidenziabile nel tessuto sociale moderno che è quella fluorica del fluorico ma lasciando questi ricordi omeopatici voi ritornate a questo S-Drive e capite come dopo una fase di nutrizione integrata finalizzata immunologica a basso grado infiammatorio dobbiamo sempre poi cooperare con un sistema e quindi questo è anche un modello di informazione che io vi mando per poter far sì che non andate anche a valorizzare quelle diete che poi vanno a impoverire completamente i sistemi ma visto che avete uno strumento straordinario come questo potete sicuramente arricchire le vostre informazioni con questo strumento e procedere a una ristrutturazione nutrizionale che deve essere chiaramente sintonica a che cosa deve essere chiaramente sintonica al modello di restituzio ad integrum e di vicariazione progressiva verso cui dobbiamo portare la persona cercando chiaramente di rispettare tutte le fasi biologiche non accelerando nessun processo ma soprattutto valorizzandolo avendo la disponibilità di poter fare ogni 90 giorni questo meraviglioso test questo è un altro caso recente è il caso di un giovane atleta io mi occupo di seguire alcuni atleti ormai ho esperienza anche decennale con calciatori è un preparatore atletico di una squadra di Lega Pro della Primavera che gioca un campionato che si chiama Primavera 2 diciamo la Primavera 1 per farvi capire il Milan la Roma la Juve l'Inter la Primavera 2 sono squadre di serie B solitamente ma anche qualcuna di serie A e qualcuna di Lega Pro e il Monopoli è una squadra della mia città di Lega Pro e questo preparatore mi chiama dice dottore guardi io ho bisogno di lei perché ho un ragazzo di 18 anni che l'anno scorso ha fatto 42 gol negli allievi quest'anno sta giocando in Primavera ma sono tre mesi che non rende non capiamo il perché la mamma me l'ha mandato anche in attività privata perché ci tiene che il ragazzo chiaramente non solo regga quella che è la sua pratica sportiva ma abbia anche un rendimento scolastico perché tutte le due cose si abbiano e mi dice dottore visto che abbiamo aiutato anche una ragazza a riprendere in pieno la sua validità mi può fare anche per questo giovane il test al buco e dico guardi me lo faccio venire il giorno dopo io lo vedo più o meno due settimane fa era l'inizio della settimana di Pasqua prepasquale lo vedo sto giovanotto un giovanotto è tanto un metro e ottantasette 18 anni bomber lo chiamano e Giacomo è un ragazzo che mi racconta dice dottore guardi io faccio fatica cioè nel senso che prima scattavo e recuperavo ora non recupero e questo l'ho notato anche a scuola ho disturbi di memoria o disturbi di concentrazione non ho un buon rendimento scolastico e questo chiaramente sta preoccupando i miei genitori che mi hanno detto guarda se continui così l'anno prossimo lascio il calcio perché devi fare il quinto anno e praticamente lui viene sottoposto al test che mi dice al primo posto cioè lui non lamenta nessun sintomo cioè lui l'unica cosa che lamentava era questa stanchezza questa incapacità di recupero e soprattutto mi era stato inviato dal suo preparatore che è un professore di educazione fisica il quale avendolo visto allenandolo a parte per questo giovane non solo gli allenamenti con la squadra che sono sei a settimana andava a fare anche allenamenti a parte per potenziarsi allora io chiaramente rifaccio una via lo vedo non c'è un grosso deficit in ambito di massa muscolare ma quello che mi colpisce della via è soprattutto un dato che è l'angolo di fase un angolo di fase che indica l'angolo di fase nella via indica un indice che si chiama indice di reattanza indice di resistività o di resistenza passiva che praticamente dipende dalla capacità di tessuti di farsi attraversare dalle correnti elettriche e dalla capacità di stabilità delle membrane cellulari e il dato mi colpisce perché vedo che soprattutto la reattanza in certi angoli in certe zone io ho una via particolare che vede anche alcune zone corporee non è adeguata rispetto a quella che dovrebbe essere la performance di questa treta quindi chiaramente lo sottopongo al test del bulbo e al test del bulbo al primo posto mi viene equilibrio microbico intestinale al secondo posto metabolismo degli zuccheri al terzo posto sistema ormonale al quarto posto sonno chiaramente la prima cosa che mi sovviene in quel momento quando vedo sonno in un ragazzi di 18 anni dico scusa Giacomo ma fammi capire ma come stai dormendo la notte dice dottor sinceramente se ti devo dire gli ultimi due o tre mesi io vedo che non dormo più come prima non ho un buon recupero ma soprattutto la mattina mi sveglio stanco cioè faccio più difficoltà a diciamo recuperare e a svegliare allo stesso tempo la mia nutrizionista che collabora con me aveva già fatto un'analisi alimentare mi accorgo proprio della carente nutrizione cioè rispetto ad un metabolismo generale di quasi diciamo 3200 calorie perché come viene calcolato in un atleta il metabolismo generale viene calcolato attraverso il metabolismo basale più in relazione al peso vengono fatte delle valenze rispetto al consumo calorico medio che in un atleta di quel genere è all'incirca di 6-7 calorie per ogni ora di allenamento siccome si allena in media un'ora e mezza al giorno quindi 7 calorie per 80 chili 7 per 8 56 sono 560 calorie più altre 280 sono diventano 840 voi dovete aggiungere al metabolismo basale anche le 840 calorie che derivano da un'ora e mezzo di allenamento settimanale mettiamo 3000-3005 il globale ma lui mangiava molto poco e soprattutto non integrava quindi mangiava poco vedete che è segnato il metabolismo degli zuccheri del sistema ormonale non integrava e in più aveva qualche inceppo considerate che dal test del bulbo vengono fuori vitamine e quindi inositolo vitamina E vitamina B5 vitamina metabolica importantissima la B1 vitamina metabolica poi a livello di antiossidanti al primo posto selenio in un giovanotto di 18 anni coenzima Q10 quindi il mitocondrio flavonoidi e cavolo anche uno stress ossidativo del microcircolo un aspetto reologico del sangue con maggiore viscosità un aumento della una ridotta fluidità vedete la vitamina E e poi alcuni acidi grassi soprattutto acidi grassi a valenza cerebrale ma soprattutto un dato che a me non sconvolge più perché nel mio paese ne trovo tanto sono i metalli tossici e quello che vedete a sinistra è il sistema immunitario convalidato di sto giovanotto atleta non vi ho portato la foto però se volete ve la posso mandare è un bel giovane un sulfurico occhi scuri quindi performante ma qua è rinvertito qua è rinvertito vedete il valore più grande ce l'ha 23 stress ossidativo 22 presenza di metalli tossici ed elettrosensibilità in più birra che non è solo birra ma è cioè un ragazzo non beve birra ma è probabilmente una incompatibilità a quelli che sono i zuccheri a quelli che sono i lieviti a quelli che sono gli alcoli liberati e poi la barriera intestinale un ragazzo che va bene in bagno però dice come l'intestino no dottore perfetto vedete metalli tossici e batteri in più la glutamina come indicatore quindi il mio sospetto qual è questa barriera quando c'è glutamina dovete pensare a una sindrome da intestino a colabrodo in chi avviene questa sindrome al primo posto nella gestione della sindrome dell'intestino a colabrodo c'è lo stress psicosomatico parliamo di un atleta che ha delle aspettative e che ora è in una fase di retrazione si sta bloccando si sta chiudendo si sta ritraendo e lui invece dovrebbe essere un espanso è un atleta è un goleador è uno che apre è uno che rompe le porte quindi a livello psicosomatico c'è una interiorizzazione in una struttura invece psicosomatico il sulfurico è un empatico peraltro lui è un sulfurico con recettori ampi poi chi avrà la fortuna domenica di fare la lezione con me capirà che significa avere recettori ampi e quindi è uno aperto al mondo comunicativo si sta chiudendo e non è più lui stesso proprio perché è sofferente sofferenza in duale non solo sofferente rispetto al fatto che non è performante essendo l'uomo di punta di questa squadra che sta lottando per salvarsi per mantenere una categoria che è come una serie A per la primavera del monopo ma è anche una persona che nella sua sofferenza sta soffrendo anche perché non sta a quell'età aiutando a essere orgoglioso di lui i suoi genitori che il papà è un ex calciatore quindi è una doppia sofferenza a cui si aggiunge anche la sofferenza scolastica chiaramente la circolazione in un giovane frequenza elettromagnetica beh è un ragazzo sempre esposto all'aria sta sempre in giro le carenze vitaminiche importanti gli antiossidanti vedete tutti segnalati gli antiossidanti importanti parliamo del coenzima Q10 quindi il DHA come acido grasso è fondamentale in un giovane ma soprattutto vedete quello che colpisce è questo impatto ambientale questo impatto ambientale questi metalli tossici che stanno deteriorando le cellule di sto ragazzo le stanno distruggendo a livello di produzione energetica non c'è un'adeguata fase di recupero c'è una membrana intestinale che è danneggiata c'è una gestion distrutta c'è un passaggio un'ultrafiltrazione di questi metalli che chiaramente attraverso il fegato se lui ha 70 kg di muscolo rispetto a 80 kg 70-72 kg di muscolo di massa muscolare non solo striata ma anche liscia la complessità praticamente è un soggetto che sta mettendo tossine metalliche nel muscolo che hanno lo stesso effetto di inibire l'attivazione del coenzima Q10 quindi io che ho fatto io ho cambiato completamente l'alimentazione e questa è la sua barriera intestinale che non mostra grandi problematiche anche se vedete batteri in qualche maniera indicati in grassetto vedete dice il test da tenere presente perché è indicato in grassetto non è indicato tutto colorato in arancio le muffe spure è chiaro ma invece vedete qua che sta vedete qua che sta stress ossidativo lo stress ossidativo in un epatico in un giovane in un ostentico a quell'età c'è tanta energia stanno tanti ormoni in giro ma state scherzando è la legge di espansione e di ritrazione di dilatazione e di restrizione se io vado in espansione perché l'età spinge la mente spinge il progetto di vita spinge e io mi trovo nel mio corpo un fattore tossico ambientale che respiro mangio ma quello che vogliamo ormai le tali pesanti stanno dappertutto come dice anche il mio grande amico il grande dottor Luigi Montano di Acerra considerate che siamo di fronte a una Ferrari che è costretta all'improvvisa afferenata e ci sono delle leggi biologiche quanto più potente è il soggetto in essere tanto più disastrosa è la convalidazione del nemico che blocca quell'energia che sta evolvendo e quindi in questo caso è come avere una Ferrari e procedere a un'improvvisa frenata quindi il mio ragionamento è stato quello di metterlo in condizioni sia di nutrizione adeguata abbassando il carico di metalli tossici sia in una condizione chiaramente di chelazione è di drenaggio epatico ora ho preso un momento il cellulare perché vi leggo un messaggio mamma di Giacomo messaggio di sabato buon pomeriggio dottore Giacomo oggi ha fatto un partitone contro il Bari tutti se ne sono accorti grazie peccato che abbiamo iniziato tardi questo percorso ma meglio tardi che mai è un messaggio io sono abituato a questi messaggi ma non ve lo dico per piaggeria o per altro perché è così quando sono giovani no? e Aneman lo diceva la psora la psora è esplosiva è reattiva la psora si fa sentire ma quando noi apriamo i canali di un soggetto giovane e li apriamo alla libertà di espressione basta poco per cambiare di destino quindi io non mi meraviglio che questo ragazzo che dopo dieci giorni ha avuto questo risultato perché nei giovani questo avviene quando io sento dire che le medicine naturali le medicine biologiche le medicine integrate l'omeopatia tutte le medicine naturopatiche sono lente è un errore è sbagliatissimo io ho avuto un sacco di casi risolti in breve tempo e quindi tutto dipende dalla forza energetica fisiopatologica del soggetto che noi stiamo esaminando e quando si tratta di giovani quando si tratta di bambini il disordine è molto potente e per questo ci spieghiamo perché epigeneticamente con tutti i disastri che stanno arrivando attraverso l'embrione materno a questi poveri bambini ci troviamo un sacco di bambini che sono in disordine che sono in dis con tutte le turbe del loro sviluppo e tutto proprio quello che è il campo complesso e poco nobile e dignitoso per una società che si vuole chiamare civile che è quello proprio di tutte le problematiche che stanno distruggendo e deteriorando la salute fisica e mentale di molte famiglie per cui capite no abbiamo una grossa opportunità che ci offre questo test capitemi questo è un caso recente ora ve ne faccio vedere un altro recente questa è una signorina di 19 anni mi arriva dopo l'ennesimo antibiotico per due volte al mese in media sono ormai due anni che è costretta questa ragazza all'ultimo anno di scuola superiore studia scienze quantistiche è costretta a gestire una tonsillite di natura streptococcica questa ragazza è arrivata ormai in una condizione in cui da un lato sono iniziate a verificarsi delle problematiche nella gestione energetica della sua vita per cui stanchezza disturbi di memoria disturbi di concentrazione beh immaginate se fosse vostra figlia che deve fare gli esami di maturità che decidono anche un destino no e questa ragazza continuando a prendere antibiotici peraltro si ammala ogni due settimane con gravi conseguenze perché quando la tonsillite è streptococcica ed è molto febbrile saltano anche giorni di scuola quindi si presenta da me con i genitori e vedo questa ragazza gli dichiara linfatica no con una struttura solida mesoblastica quindi una bella ragazza no mesoblasta sul furico ben adeguato a livello recettoriale con recettori aperti con questa limpidità di espressione con questi occhi chiari quindi l'irida linfatica e io penso subito beh chissà che sta nell'intestino ma bastano 12 minuti e poi dal bubo arriva questo arriva proprio l'indicazione quando lei l'intestino non me l'ha citato anche se poi quando io la sollevito dico Marta dimmi ma io ho notato ultimamente che si gonfio un po' la pancia sì dottore negli ultimi 4-5 mesi ma io ho pensato agli antibiotici certo anche dico io però manca ancora qualcosa siamo vedete nell'ambito del riepilogo c'è la parte intestinale poi subito dopo sistema gasso intestinale poi capiremo perché poi vedete il sistema muscolo scheletrico e il sistema sonno e quando dico sonno dice la mamma dice dottore e lei va a dormire troppo tardi perché non si riesce ad addormentare questo è un segno molto tipico dei soggetti che sono infiammati cronici soprattutto i soggetti stenici che hanno una grossa attività dell'ipotalamo e questa questa ragazza ce l'ha per tipologia anche per iride quando sono infiammati disassano l'attività della ghiandola pineale a favore dell'attività della ghiandola ipofisare attraverso l'ipotalamo con l'ipotalamo che si si iperattiva è una condizione che per esempio caratterizza moltissimo i pazienti fibromialgici con l'ipotalamo che vi dicevo si iperattiva e questo chiaramente porta a una condizione di sofferenza cronica il sistema perché l'ipotalamo iperattivato non fa recuperare il sistema quindi questo è importante perché dovete pensare che tutte le cellule del nostro sistema immunitario se noi non siamo ben muniti e ci difendono ben poco in più questo è collegato spesso a una valenza infiammatoria che genera nella barriera intestinale ma che trova in soggetti che hanno delle aperture importanti delle attivazioni importanti nei sistemi a feedback tra intestino e cervello e ci sono tipologie come questa di questa ragazza che lo hanno anche molto accentuato proprio a iperattivare come sistema di compenso l'attività diciamo neurobiologica affinché questa possa procedere alla fase di sfiammamento ma in una condizione di un terreno malato come il terreno di questa ragazza che poi vedremo questo non avviene bene perché chiaramente il terreno malato condiziona il tipo di segnale che arriva e quindi diciamo già queste informazioni che ci aveva dato il test erano a livello di riepilogo delle informazioni importanti poi andiamo a vedere le varie indicazioni e al primo posto il test mette acidi grassi soprattutto due acidi grassi fondamentali sono due omega 3 che sono l'epa e l'ala l'ala 3 detto acido alfa linoleico sono due acidi grassi fondamentali per la protezione delle embrane cellulari e sono due acidi grassi fondamentali per la protezione antinfiammatoria quindi indirettamente ci sta dicendo il test già in prima linea che questa ragazza è infiammata è chiaro che la ragazza si presenta con la famiglia porta una serie di esami dagli esami non risulta niente parliamo sempre di pazienti che arrivano da noi spesso come ultima spiaggia e quindi questo è un problema fino a un certo punto io invece lo considero un vantaggio perché ormai anche andando a leggere tutti gli esami si sa che non c'è niente perché se trovassero qualcosa questi pazienti non arriverebbero da noi poi in abito di vitamine vedete viene indicata la betaina ma viene indicata anche la K2 insieme alla B9 vitamina a grossa valenza cerebrale e alla biotina la betaina qui vedremo quando parla di apparato gastrointestinale la betaina ha un grosso riferimento con una grossa ghiandola dell'apparato digerente ma andiamo a vedere anche la carenza aminoacidica al primo posto la sparagina che è un metabolita del nostro sistema nervoso l'asparagina soprattutto è un metabolita che quando è carente dimostra un'incapacità delle cellule nervose nel recupero così come l'acido glutammico così come la serina ma soprattutto l'asparagina quindi la ragazza ha una difficoltà nel recupero nervoso quindi stiamo deducendo che è infiammata che è in acidosi che in qualche maniera c'è una difficoltà nel recupero energetico che poi andando a vedere i minerali proviamo il boro e come mai il boro una ragazza di 19 anni non è un'osteoporotica ma collegandola con l'acidosi il boro come dice il grande professor Raja è un segnale che ti dà il test quando vuole indicare un'inversione neurovegetativa quando vuole indicare che c'è un iperparatiroidismo compensatorio quindi una struttura che dovrebbe essere giovane quindi ipertiroidea funzionale magra alta bella e quindi un'ipertiroidea l'ormone tiroidea è anche detto l'ormone della bellezza quindi è dell'intelligenza e lo era questa ragazza lo è questa ragazza diciamo che il boro indica un'inversione di quella forza energetica così come il sodio indica una sofferenza surrenalica lo zolfo indica una sofferenza metabolica epatica il molipidano indica probabilmente uno stato di tossicosi anche a livello epatica quindi passiamo alla fase successiva dove voi trovate l'indicazione nell'ambito delle resistenze degli indici quindi di resistenza microbiologica al primo posto di virus ma lei mi ha sempre parlato di batteri mi ha sempre parlato di tonsillite che c'entrano i virus dovremmo trovare batteri no invece troviamo virus muffe spore e fumi poi una serie di alimenti che io gli dico ma di questi ne mangi qualcuno sì dottore ma chiaramente gli daremo l'importanza giusta così come anche gli additivi ma poi andiamo nella pagina del sistema immunitario e questa pagina del sistema immunitario in questa giovane donna di 19 anni dimostra che cosa vedete un valore di 30 che viene indebitato a muffe spore funghi e virus quindi ci troviamo di fronte una situazione in cui muffe spore funghi e virus stanno attivando il sistema immunitario di questa signora di questa signorina e lo stanno deteriorando lo stanno deteriorando e praticamente in questo deterioramento ci troviamo di fronte a un intestino sofferente dove troviamo chiaramente le muffe le spore i funghi i virus e soprattutto vedete anche con 12 metalli tossici ma soprattutto sistema di supporto intestino cervello che è saltato in più compare anche una relazione col glutine quindi che cosa sta succedendo fondamentalmente se questa ragazza se noi pensiamo alle tonsille le tonsille sono un focus del tessuto linfoide il tessuto linfoide è organizzato in questa maniera noi abbiamo un tessuto linfoide primario che viene modulato dall'attività del midollo osseo e del timo che sono ghiandole che decidono soprattutto una certa strutturazione del sistema immunitario innato quando però poi si sviluppa il sistema immunitario nell'immunità acquisita prendono valore soprattutto delle strutture linfoidi che sono rappresentate da organi linfoidi come linfonodi che sono diffusi in tutto l'organismo e poi da un altro grande organo linfoide che è la milza ma perché l'intestino perché l'intestino è sede del più grande tessuto linfoide che è il nostro organismo il 60 65% del tessuto linfoide organico si trova nel cosiddetto sistema GALT il sistema GALT sta per GALT Associated Linfoide Tissue quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione di attivazione del GALT il GALT però è un sistema di rilevazione è come se fosse il GALT una centrale di polizia che attraverso dei sistemi afferenti informa il BALT che è il bronchio alveoleare associati dell'infoetissio informa il NALT che è il sistema naso faringeo quindi tonsillare avvisa l'Uralt l'apparato urogenitale infatti la ragazza mi dice dottore ma io soffro anche mi hanno detto forse di ovaio policistico sono qualche mese che sto avendo problemi e poi avvisa anche il SALT indirettamente il SALT per schiena associativa cioè tessuto linfoide associato alla pelle e anche in qualche parte il VALT che è il vascular associativa di linfodissio ma soprattutto poi avvisa sedi afferenti del tessuto linfoide a livello di articolazioni e della mammella quindi la tonsilla della ragazza non è nient'altro che la risposta di qualcosa che sta avvenendo da qualche altra parte dove chiaramente il test del bulbo vedete vi fa convalidare la necessità di valorizzare i dati sistemici partendo da dentro non da fuori non andando ad abbattere il batterio che sta nella tonsilla ma andando a potenziare le cellule e la risposta del sistema immunitario che quando deve condividere una risposta con un batterio deve essere attiva di quella branca che si chiama branca linfoide TH1 TH1 sta per TH1 che è quella che produce fra le altre cose citochine antinfiammatorie potenti che chiaramente sono tutte attivabili attraverso che cosa l'attività cronica di virus di funghi muffe spore e quindi in maniera diretta vanno a debilitare questa branca perché se io ho nel mio organismo una condizione di alterazione microbica cronica soprattutto della barriera intestinale e questa condizione non viene ad essere annullata e chi la favorisce in primis l'antibiotico se andate a leggere fra gli effetti collaterali degli antibiotici c'è scritto candidosi intestinale quindi chiaramente ci vuole molto da parte di un medico a dedurre è vero che oggi abbiamo questo test a dedurre che se io continuo a dare a sta ragazza no antibiotici per curare una tonsilla per una tonsillite è questa recidiva io devo curare l'acquario non il pesciolino devo andare a curare il terreno devo andare a sistemare l'equilibrio devo andare a riportare il sistema in una condizione di equilibrio immunologico e non lo posso fare dando solamente probiotici che in questo caso non servono a niente ma devo curare il sistema seguendo le regole delle quattro R la prima R sta per rimuovere bisogna rimuovere dal sistema le muffe le spore i virus i funghi poi bisogna andare a riparare e a rimpiazzare che cosa rimpiazzare è chiaro che bisogna rimpiazzare delle abbiamo visto che c'è uno stato di acidosi c'è una condizione di sofferenza c'è una condizione in cui la barriera intestinale questo è un test vedete acido glutammico barriera intestinale vedete resistenza microbiologici le tracce di metalli nella barriera intestinale una grande carenza di acidi grassi essenziali e carenze di vitamine che collegano anche uno stato vedete la K2 insieme ad altri indicatori di acidosi quindi nell'ambito dell'indicazione la stessa betaina indica una bile non prodotta bene quindi devo andare ad adeguare anche la bile di questo soggetto devo andare a sostenere le funzioni di depurazione epatica devo andare a ripulire la barriera devo andare a riparare successivamente e chiaramente devo far convergere verso questo organismo un'alimentazione che deve essere priva per esempio di glutine non per sempre ma per la fase transitoria in cui voi andate a ritrasformare il sistema ripulendolo e bonificandolo quindi come vedete una rete di informazioni che derivano da questo test che ci permettono di poter intervenire in questo organismo altrimenti l'unica terapia che gli era stata proposta che era chiaramente stata inefficace da parte del medico di famiglia erano se voi penso che ben li conoscete sono tutti vari immunostimolanti e quindi parliamo di broncovaxom o sostanze simili che sono dei lisati batterici che non facevano altro che ancora andare a contaminare di più il terreno e a iperstimolare quella che era chiaramente un'iperreattività con anche diciamo un'iperstimolazione di quella branca che era già abilita perché fondamentalmente la branca TH1 è molto giovanile è modulata anche da ormoni giovanili per cui i giovani rispondono meglio se non riparano e beh andate a sospettare che c'è un terreno modificato e vedete che è terreno modificato ecco perché l'epigenetica in questo caso l'epigenetica ambientale considerate che un terreno con metalli favorisce le muffe spore e i funghi le muffe spore e i funghi facilmente trattengono metalli per cui beh considerate che la candida per esempio vive e si trasforma in patogena soprattutto in un terreno con metallismo perché il selenio che è un fortissimo mediatore della chelazione dei metalli tossici è importante per mantenere la candida in una condizione di eubiosi invece di farla diventare patogena e chiaramente considerate che in questo caso come minimo ci sta una candida ma è inutile andare a fare 3000 esami in questo caso curare diventa veramente facile si tratta di rimettere un po' in ordine le cose andare a lavorare sul GALT andare a lavorare sulle 4R andare a lavorare sulla detossificazione epatica specifica c'è un prodotto eccezionale che Giorgio e il professor Miceli hanno esposto nelle precedenti due serate che è il bioenergen è un prodotto eccezionale per la barriera intestinale c'è un prodotto eccezionale per lo stress ossidativo che è il self food c'è un prodotto eccezionale per lavorare sulla detossificazione che è il same ma poi potete usare tutti i prodotti che volete per le micosi ce ne sono talmente tanti in giro ma dobbiamo andare ad aiutare a questa persona a riportare il sistema immunitario a lavorare così come era prima e dopo lavoreremo anche sull'informazione streptococcica ma il test vi dà delle priorità ben precise quindi è importante questo perché è chiaro che molti direbbero va bene andiamo a lavorare sul batterio lo septococco li cambiamo il terreno informazionale ma non è solo questo bisogna lavorare su un ecosistema considerate che molti sintomi cerebrali e soprattutto l'inversione che presenta la ragazza è perché le micotossine attraverso il fegato vanno affidie poi direttamente nel cervello le micotossine sono epatotossiche moltissime sono gastro ma soprattutto splenotossiche poi sono soprattutto le micotossine molto neurotossiche e quindi capite bene no? come è importante andare a debilitare questo circuito e bisogna essere fondamentalisti in questo caso non aspettare lavorare subito sulla detossificazione specifica sul drenaggio e soprattutto poi sul rinforzo del sistema questo è l'ultimo caso che vi presento è un caso di 15 giorni fa ma stamattina sono stato l'ho messo per ultimo visto che abbiamo già superato le 10 lo faccio per ultimo poi lasciamo un po' di campo alla discussione ed è un caso e stamattina mi è giunta la telefonata della mamma stupefatta del risultato di questa ragazza giovane 14enne che Valeria che praticamente mi giunge in studio con questa mamma e questo papà preoccupatissimi perché la ragazza sana fino ad allora semplicemente portatrice sana di talassemia minor praticamente nel mese di febbraio si presenta intorno ai primi di febbraio nel centro di ematologia che la segue e una dottoressa che non l'aveva mai visitata la vede siccome la vede un po' palida ma siamo in pieno febbraio quindi voglio dire la ragazza aveva anche diciamo un'acute pallida praticamente gli vede gli esami con un ferro normale una ferritina normale gli dà del ferro ad un mese esatto dalla cioè i primi di marzo ad un mese esatto dalla somministrazione di ferro la ragazza va in difficoltà è il primo episodio che ha un vomito incoercibile poi inizia ad avere sintomi di stanchezza grave sintomi di obnuinamento del sensorio non si riconosce va in crisi brillante a scuola va anche in crisi scolastica spesso inizia a non andare a scuola mi chiamano un po' prima di Pasqua la settimana prima il papà è la mamma il papà è un famoso commercialista della mia città e mi chiede dottore guardi mi hanno detto che lei fa un test per capire perché noi siamo molto preoccupati per mia figlia dico guardi venga domani mattina visto che sono gli ultimi giorni prima di Pasqua e tanto la ragazza non stava comunque andando a scuola mi arriva sta ragazza gli faccio il test e vedete viene fuori metabolismo dei zuccheri sistema muscolo scheletrico emozioni sistema immunitario chiaramente quando si presenta la ragazza con la mamma si presenta con un corposo fascicolo di esami chiaramente quattordicenni i genitori molto preoccupati e iniziamo andare a convalidare tutte le informazioni del test e io li chiedo subito ma fatemi capire ma che la ragazza a livello alimentare dottore la ragazza sta mangiando pochissimo non riesce a mangiare ha un blocco nello stomaco e chiaramente è psicosomatico ma non solo poi vi spiegherò perché chiaramente noi andiamo a vedere il test no? e il test del bulbo mette in evidenza vedete al primo posto negli aspetti chiave gli acidi grassi soprattutto l'acido arachidonico e beh l'acido arachidonico quando è carente è un segno anche di non solo di tipo infiammatorio ma anche di carenza di endocannabinoidi di produzione di endocannabinoidi sostanze positive poi fra le resistenze microbiologiche compare parassiti e muffe l'accusa strana la glutamina anche in questo caso poi sostanze ad azione trofica per le cellule la carnosina un grande stimolante del GH la carnitina un grande stimolante della beta ossidazione la lanina anche questo importante per il recupero ma soprattutto poi viene fuori la presenza di metalli tossici anche qui in questa giovane ragazza della mia città e poi una serie di carenze vitamine che fra cui spiccano soprattutto la vitamina c e la vitamina a vitamina ad alto potere antossidante ma soprattutto la b6 che è una grande vitamina neurotrofica chiaramente degli alimenti che noi indirizziamo diciamo alla ragazza di stare attenta nell'alimentazione ma già la ragazza non mangia e poi andando alle pagine specifiche vedete compare un valore che dovrebbe essere normalmente fino a 19 per un supporto moderato fino a 34 ma in questa ragazza è 108 altro che non ha niente vengono fuori di disturbi di campo alimentare latte di mucca vedete mais e birra vengono fuori 22 metalli tossici 20 muffe spore parassiti e 6 glutamina nonché 22 carenze vitaminiche a livello dell'ambiente intestinale vedete la presenza di metalli tossici e di parassiti anche qui la glutamina è quindi un indice di grave di grave diciamo lesione della barriera intestinale e poi alcune indicazioni soprattutto nella somatizzazione cerebrale dell'intestino con le emozioni e con l'attivazione del sistema immunitario anche il microcircolo e indica vedete nella carnosina non sottovalutate questo modulatore del GH ma soprattutto della fase di recupero notturno ma anche di recupero cellulare perché la carnosina è un amminoacido un B amminoacido non è un amminoacido è fatto da due amminoacidi praticamente serve molto per il recupero cellulare infatti io lo uso anche nell'ambito della medicina dello sport e considerate anche il fatto che oltre le carenze vitaminiche ci sono carenze di acidi grassi importanti quindi parliamo di un sistema denutrito e infiammato siamo di fronte a uno stato infiammatorio di che natura e andiamo sul fattore epigenetico da danno ambientale da tossicosi metallica i metalli hanno una grossa valenza col sistema nervoso e soprattutto nei giovani metalli che hanno avuto tanti casi sono più di vent'anni che mi occupo di metallismo praticamente hanno una grossa valenza nel sistema neurovegetativo in questo caso il sistema neurovegetativo che è stato infilato è il plesso celiaco è il plesso neurovegetativo presente a livello della struttura sopra lo stomaco chiaramente le carenze aminoacidiche di cui abbiamo parlato prima sono tutti la testimonianza di come ci sia consolidata un'energia in questa ragazza e questo è il quadro immunologico e quando voi trovate insieme muffe spore e parassiti qua si tratta dell'attivazione di branche che sono branche tutte e due in qualche maniera integrate al sistema complesso quindi non c'è una specificità specificità di immunoflogosi ma è attivato tutto il sistema e tutto il sistema che è in allarme quindi chiaramente di fronte a un caso del genere parliamo di un caso in cui c'è un'emergenza in cui c'è anche da parte di questa giovane 14 anni una consapevolezza una paura un'evocazione di paure perché sai vedere iniziare ad andare su internet con questi ragazzi è facilissimo perché ormai sono tutti dotati di telefonino e chiaramente è iniziata a fare viaggi verso le malattie gravi e io la vedo là spaventata e dico io guarda Valeria ce la faremo ho già avuto tanti casi simili al tuo in questo test c'è la segnalazione che c'è qualcosa che non sta andando come deve che siamo di fronte a una situazione di allarme che c'è una carenza nel tuo organismo che dobbiamo supportare e dobbiamo anche riorganizzare un'alimentazione in questo momento che tu non riesci a mangiare la ragazza in dieci giorni ha già recuperato energia si alimenta sta bene sta meglio è più lucida ha detto la mamma ha ricominciato dottore a riaprire i libri abbiamo lavorato semplicemente su fattori epigenetici abbiamo adeguato la nutrizione abbiamo lavorato su questi fattori indicati dal test anche questo caso ve l'ho voluto portare visto che la telefonata l'ho ricevuta stamattina alle 11 dalla mamma perché mi ha chiesto la mamma dottore abbiamo notato che quando prendere delle goccine di depurazione ogni tanto lamenta mal di test e questo c'è un'accentuazione del mal di test che lei non aveva prima quindi è un segno buono è un segno di uscita fuori è un canale young che si sta attivando perché smuove e allora gli ho ridotto un pochettino le gocce ma la ragazza è contentissima di fare la cura perché nel frattempo tutte le cure che aveva fatto non erano servite a niente considerate che chiaramente i genitori vedendola così l'avevano portata anche da specialisti da neuropsichiatri da medici internisti invece la mamma che è stata una mia vecchia paziente degli anni 2000 dei primi anni 2000 a cui ho risolto una grave orticaria nonostante la diffidenza del marito ha voluto procedere verso questa soluzione e sembra e sembra che il destino in questa scelta gli abbia dato ragione vedete l'utilità di questo test perché se migliorano così velocemente con terapie semplici alle quali poi io integrerò alto però considerate che stiamo parlando di una ragazzina tutta questa rete di informazioni mentre per la medicina ufficiale questa ragazza era finita in una specie di diciamo baratro un burrone non si capiva qual era la via d'uscita no? non c'era chiarezza nella via d'uscita su che cosa dobbiamo lavorare sull'aspetto psicologico ma non è la ragazza non era depressa sull'aspetto fisico ma non c'è niente a livello di esami hanno fatto una risonanza magnetica a livello degli organi del cervello non c'è niente quindi che si fa? per fortuna la mamma ha avuto quel ricordo di più di vent'anni fa mi ha contattato abbiamo avuto grazie a questo tipo di test una strada aperta oggi c'è una ragazza che gode di maggiore speranza io direi proprio questo messaggio e vi lascerei uno spazio per le domande negli ultimi minuti io direi che questo test apre proprio un varco alla speranza apre proprio un varco alla speranza che ci sono altre possibilità per poter stare bene per poter migliorare la qualità della propria salute per poter chiaramente partecipare un modello di medicina complementare dove il paziente diventa il protagonista attraverso le sue scelte e le sue scelte consapevoli e noi operatori ci mettiamo al centro e grazie e grazie alla guida con questa bussola che abbiamo nuova alla guida che possiamo orientare del nostro paziente possiamo chiaramente cambiare il suo destino grazie per avermi ascoltato ora lascio spazio a Giorgio Terziani a qualche domanda e poi penso concludiamo la serata grazie ma grazie a te un dono meraviglioso un privilegio ascoltarti Bartolo voglio proprio dirti che la tua competenza conoscenza ma anche i principi di quello che ci hai trasmesso sono straordinari perché penso che questa sia la medicina che noi vogliamo che abbiamo sognato da sempre una medicina ma anche non solo per i medici ma anche per chi si occupa di nutrizione chi si occupa di medicina naturale di benessere avere una visione così integrata con un test così semplice e poi naturalmente grazie alla formazione la scuola di alta formazione che abbiamo possiamo veramente possiamo veramente fare molto volevo solamente farvi vedere adesso abbiamo due appuntamenti importanti che uno la settimana prossima e abbiamo un appuntamento veramente bello della nostra scuola di alta formazione perché noi oltre al fatto che insomma facciamo webinar workshop eccetera poi abbiamo una scuola di alta formazione veramente importante siamo al quinto anno quindi per chi poi è interessato può contattarci questo sono questo è il il corso per esempio vi faccio vedere così avete modo di poi dopo vi apro i microfoni anche per eventuali domande scusate eccolo qua vedete questi sono i due due appuntamenti il proprio sabato 13 e 14 basta scrivere alla segreteria Upainuk info che ho upainuk.it per partecipare e poi questo grande appuntamento del sabato 11 e 12 maggio veramente è un evento con il dottor Agnoretti Massimo Spattini Monica Greco Marco Stentor Mauro Miceli Katia Wulfard Bartolomeo Allegrini veramente un focus straordinario sulla medicina funzionale quindi chiunque è interessato questo ultimo che è a parte dalla scuola di alta formazione l'abbiamo inserito proprio come un regalo come un dono invece che 200 euro per chi si iscrive può partecipare a questo corso con 100 euro compreso IVA quindi invece che 200 euro quindi se volete iscrivervi siete benvenuti naturalmente compreso nella scuola di alta formazione per chi fa la scuola di alta formazione per chi invece non è iscritta alla scuola con 100 euro si può iscrivere invece che 200 100 euro compreso IVA e cosa vogliamo dire della nostra scuola Bartolo orchestrata dal grande Antonio Coviello ringrazio e saluto Bartolo ci sei? Sì che dire Giorgio io domenica farò una lezione va bene il 12 maggio vi presenterò una ventina di casi clinici collegati alla barriera intestinale va bene quindi faremo il pomeriggio della domenica lo passeremo in maniera clinica va bene quindi sarà un pomeriggio rilassante perché chiaramente vedremo un po' di casi clinici come S-Drive che orienta a risolvere le problematiche intestinali mentre domenica c'è un appuntamento con me di 4 ore dalle 9 alle 13 dove io introdurrò un concetto di semiotica funzionale integrata collegato all'inquadramento non solo costituzionale ma diatesico evoluto non solo evoluto sulla parte di patologia e quindi far comprendere rispetto a quello che anche il grande Sergio Sagnaro quando parlava di microangiopatia isto angiopatico tossica metabolica acidosica questa parte qua chi soffre di più di questo chi soffre di più di altro ma io aggiungerò anche una parte importante c'è qualche microfono aperto aggiungerò una parte importante di correlazioni diatesiche con l'habitus psicomorfologico e quindi faremo proprio un viaggio sulla personalizzazione della medicina cioè su quella P che tu hai fatto vedere prima delle 4 P personalizzata che permetterà chiaramente all'operatore alla fine delle 4 ore di avere una serie di strumenti per poter integrare più facilmente le informazioni che arrivano da uno strumento proprio eccezionale come S-Drive invitandolo anche ad un'altra cosa importante perché io penso che una scuola si chiama così perché deve stimolare anche allo studio successivo cioè chi si iscrive a una scuola non deve aspettare dalla scuola ma deve prendere spunto dai docenti per poter continuare poi a studiare come faccio io come fai tu come fanno molti che conosco e che ancora dopo io 30 anni di laurea l'ho fatti l'altro giorno praticamente ancora non hanno smesso di entusiasmarsi per questo meraviglioso viaggio che mi è stato concesso grazie di cuore se qualcuno vuole fare domande vuole dire qualcosa uno alla volta c'è anche la dottoressa grazie a Feno c'è buonasera a tutti professoressa Marco lo complimenti sei bravissimo te l'ho anche scritto in chat grazie si fa quel che si può no guarda ti dico che tu fai veramente tanto più di un libro aperto una cosa meravigliosa veramente rapisci quando parli sei innamorato della medicina sei innamorato della materia stai trasmettere davvero tanto tutti i commenti che ho letto in chat che non so se tu hai letto sì sì io li ringrazio tutti però domani mattino ho una giornata di lavoro dopo domani un'altra veramente ti devono dire quanto sei bravo io penso di farti complimenti da parte di tutti è un piacere sentirti è 12-30 anni di esperienza e ti dico che si vedono e si sentono tutti sei un piacere da sentire grazie grazie a voi grazie grazie di cuore tra l'altro sarebbe posso dire anche la mia grazie ciao la pluriripetente la pluriripetente della scuola beh posso dire che Giorgio veramente con questa scuola è riuscito a riunire degli oratori incredibili eh ad abbracciare tutte quelle che sono competenze che purtroppo i nostri atenei non ci offrono i nostri atenei non ci offrono anche tutti gli esami che alcuni purtroppo medici di medici di base hanno difficoltà a prescrivere perché o sono sconosciuti o non gli fanno nessuna parte o comunque non ne vedono utilità invece nella nostra scuola si vede c'è questa utilità e noi dobbiamo conoscere queste cose per aiutare i nostri pazienti eh ma Giorgio ha già iniziato un lavoro certosino sugli atenei piano piano sta abbracciando in Sardegna Sassari e Cagliari li ha conquistati tutte stiamo arrivando stiamo mettendo piccoli passi in maniera molto discreta comunque sta conquistando il terreno la cosa che ne lo sta sfondando devo dire la verità non è facile hai ragione non è assolutamente facile nei nostri atenei non ci viene insegnato però devo dirti che Giorgio piano piano sta raccogliendo attentissimo naturalmente semina e diciamo che sta iniziando a fare qualche raccolta dico bene Giorgio sì adesso faremo un bel congresso saremo a Roma saremo a Bologna saremo insomma poi avete visto questi weekend e poi non mancate a settembre perché sarà un evento straordinario formazione il 7 sull'S Drive e congresso internazionale quindi saranno veramente due giornate storiche per per tutti noi e per chi insomma ha contribuito a questa crescita e questa divulgazione cominciare da te grazie tu sei una professoressa straordinaria illuminata e voglio ringraziarti pubblicamente per la fiducia che ci hai dato e per quello che stai facendo anche con questo studio che stiamo facendo insieme a professor Fanus e te insomma cose meravigliose grazie di cuore grazie a te grazie a te Giorgio tra l'altro unire gli atenei di Cagliari e Sassari non è non è facile diciamo che sono eventi molto rari quelli che ci riescono ad unire e quindi ti dico che hai fatto un bel lavoro perché un miracolo un miracolo dai grazie di cuore Bartolo che dire beh vabbè si fa quel che si può dai voglio dire bisogna trasferire l'esperienza Giorgio ho avuto la fortuna di fare il clinico diciamo che forse sono stato effettivamente congruente al mio viaggio perché non ho cambiato mai obiettivi e focus nonostante tante avversità che ho anche incontrato per cui quello che posso dire è un grande esempio a perseguire i vostri sogni ma soprattutto leggetevi dentro nel guidare la vostra esperienza professionale perché dentro c'è una luce che quando si accente è quella che ci permette proprio di illuminare la nostra strada e di avere proprio queste vedute meravigliose perché vedere tutti quei complimenti che ho ricevuto stasera mi rende veramente molto grato di potervi offrire quello che io ho perché questo è lo scopo principale del mio viaggio quello di donare visto che sono ritornato qui per la seconda volta e io te lo dissi Giorgio che la luce mi ha salvato e alla luce mi dedicherò e anche lì sono stato coerente va bene e quindi grazie perché con questi complimenti mi date la forza per continuare ad andare avanti e ad amare quello che faccio e soprattutto a rendere virtuosa la nostra missione perché nel momento in cui ti prendi cura di una persona sei comunque già un medico che va oltre perché ormai la medicina si occupa solo del curare e non del prendersi cura io ho lavorato 18 anni nelle cure palliative quindi so che significa prendersi cura domiciliarie però attraverso questo e questo è l'utilizzo intelligente dell'intelligenza artificiale di questo dispositivo attraverso questo noi possiamo fare un salto diventare virtuosi perché oltre a prenderci cura possiamo introdurci e comprendere il mondo della persona che abbiamo di fronte e questo aiuta ad attivare un grande meccanismo che è un meccanismo che dovrebbero portare nel nostro cosmo che è il meccanismo della tolleranza che abbiamo perso motivo per cui quando stiamo perdendo questa profonda energia che è quella con cui noi nasciamo la tolleranza è un meccanismo immunologico con cui noi veniamo in contatto già da subito appena il feto esce dalla pancia materna abbiamo perso questo concetto di tolleranza perché fondamentalmente siamo tutti disorientati e considerate che proprio il viaggio epigenetico è quello dell'andare a intercettare questi veleni nascosti che stanno disorientando tutti i nostri sistemi e che ci stanno portando alla disgregazione non solo culturale e filosofica avete parlato prima di Atenei come si può non andare a parlare in Atenei di quello che ho detto io stamattina io stamattina ho un professore universitario che sta organizzando un congresso di immunologia ho detto tu che tipo di immunologia stai portando avanti un'immunologia rigida e quindi ritorniamo al concetto di differenza di genetica ed epigenetica cioè se io continuo ad avere uno schema immunologico rigido a Monopoli si terrà un congresso mondiale dal 22 al 25 di immunologia vengono 400 professori da tutto il mondo ma in immunologia ho visto il programma rigida come facciamo ad andare incontro ai bisogni avete sentito che cosa ha detto quella ragazza di 38 anni nel primo caso clinico che vi ho presentato mica erano mie parole quelle scusatemi quindi Giorgio stiamo facendo effettivamente un grande lavoro e dobbiamo entrare negli Atenei perché prima o poi ci dobbiamo guardare negli occhi con queste persone perché dobbiamo far capire che noi siamo con loro non siamo contro di loro siamo dalla loro parte perché anche questo quello che facciamo noi potrebbe anche rendere maggiormente efficace l'uso di certi farmaci perché quando noi parliamo della teoria dell'acquario dell'andare a pulire un terreno che cosa stiamo facendo se non migliorare l'attività recettoriale delle cellule andare a bonificare un terreno significa permettere a quelle cellule di non avere più antibiotico le esistenze di non avere più quindi bisogna ritornare alla cooperazione l'estremizzazione delle divisioni che sta portando a anche in ambito sociale a tutto quel disastro che stiamo vivendo non è per niente efficace per cui dobbiamo entrare nelle università perché attraverso le università possiamo andare più facilmente a convincere la politica che non è fondamentale ma è necessaria perché ci vuole anche un sostegno economico per poter portare avanti queste cose perché tu lo fai con le tue forze Giorgio e sei un maestro in questo caso ma ti vai a svenare io lo so che fai tu quanti sacrifici enormi però quanti Giorgio Terziani esistono quanti Bartolo Allegrini esistono quanti Guido Marini io non li vedo tutti io vi saluto tutti Guido giovedì sera abbiamo una serata importante non lo diciamo non vi allargate non ci allarghiamo però Guido ha capito qualche malattia permetti me la Giorgio dai quindi non è grave non è grave si può guarire sono malattie buone che bello raga divertite che dire io vi sono grato grazie di cuore Helen grazie grazie Elena Helen grazie a tutti grazie a tutti